Impresa della Georgia a Euro 2024 nella terza e ultima giornata del gruppo F, la formazione di Sagnolbatte 2 a 0, il Portogallo già qualificato dal primo girone e c'entra lo storico passe per gli ottavi da terza. All'arena di Auskal che Svarascelia al secondo minuto sblocca subito la grande gara in ripartenza, poi i georgiani serrano le linee e respingono la reazione lusitana giocando di rimessa. Tema tattico che catalizza anche la ripresa con Mikau Taze al cinquantasettesimo che raddoppia i conti sul rigore per un fallo in aria di Antonio Silva su Lokovskli. mettendo il risultato al sicuro. Agli ottavi la Georgia se la vedrà con la Spagna. Grazie a tutti.